Il timone antimaggia è stato rapito. Richiesto intervento a Chelsea. Passo. Vedimi, è la soluzione meno durosa. E' a terra! C'ente anche nel bagagliaio! Il carpooling inizia ad andare fuori controllo! Buon peso! Grazie, Spider-Man. Ora testimonierò di sicuro. Tranquillo, amico. La polizia sta arrivando. Detective Mackey, suppongo. Grazie di essere venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante. Non l'attuale, quello originale. Venti anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat, qui Gattacicova. E cosa è successo all'originale? Morto in prigione, ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il Dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo. Ti aggiornerò man mano. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non voglio lasciare il caso in sospeso. Ho esaminato i file un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americcio 241 all'interno. Pensava ma intendessi rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se riuscisse a chiudere questo caso, andrei in pensione sereno. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Grazie a tutti. Il segnale viene da quella centralina, ma non registro nessuna corrente elettrica. Che sia finta. Chissà se dentro è vuota. Un tubo per dipinti. Detective, ho trovato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Ah, lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento. Hai detto Hardy? Sì. Il Black Cat originale era Walter Hardy. Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Walter Hardy, il Black Cat originale. Felicia Hardy, la Black Cat che conosco. È una tradizione di famiglia. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e North Moor. Non è territorio controllato dal Maggia. Esatto. Non so cosa ha dirubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra tra bande. Ok, vado a verificare. Aggiornamenti sul colpo... Scusa, eccomi. Hai qualche aggiornamento sul colpo al museo? Aggiornamenti sul colpo al museo? Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Ma si dice che ora si emmano a Amered e che le famiglie del Maggia siano in subuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Amered? In genere agisce da sola. In genere agisce da sola. Vanno per il sottile. Devo fermarli prima che qualcuno muoia. Ah, sono tutte. Consegna espressa. Spero siano le pantofole che ho ordinato. Le pantofole erano diverse sul sito. Mi rifiuto di firmare questa ricevuta. Presidenti, lavanda al completo. Passere le pantofole. L'altra parte. Spero che pei! Grazie a tutti. Resta ancora qualcuno? Ok, va bene, d'accordo, ma arrendo! Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizi a parlare. Oh, la tipa con i capelli bianchi. Ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla, alla bodega di Waverly. MJ, la sparatoria era un diversivo. Black Cat voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Maggio ha una base a Waverly. Il Cicero, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla. Felicia non agisce d'impulso. È una tipa metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Ecco la bodega. Ok, Felicia. Dove sei finita? Era appostata qui. Che cosa stavi osservando, Felicia? Centro. Salta, Ranetto. Felicia, il Maggio non scherza. Giocare con loro non è... Ah, ma a me piace giocare. Spider-Man. Sta aiutando la gatta. Prendiamolo! Spider-Man, sta per Hammerhead? Non saltiamo a conclusioni affrezzate. Non lavoro per Hammerhead o per qualche famiglia criminale. Ho un pessimo tempismo, tutto qui. Non so, non avrebbe... Ah! Ah! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.